si fa dai si fa qua c'è un'altra curvetta a destra un po' stretta ma dopo si va però c'è il vigile quindi no no problem voler potrà un po' voler però tira la tira la pampi la fa la fa sandro c'è a 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 Grazie a tutti.